Giammarco Cecconi dal mese di luglio è diventato il nuovo coordinatore comunale di Forza Italia a Pesaro, un momento particolarmente delicato per il partito perché naturalmente deve fare i conti con la scomparsa del suo fondatore Silvio Berlusconi. Sul territorio Cecconi eredita anche quello che fu un incarico storico dalla stessa fondazione del partito che fu a capo di Anna Renzoni. Che momento è per Forza Italia? Per Forza Italia è un momento molto particolare, la scomparsa di Berlusconi e la scomparsa della Renzoni qua a Pesaro hanno creato un vuoto storico perché la Renzoni in particolare ha sempre fatto la coordinatrice comunale di Forza Italia e quindi teneva da tempo, dall'inizio e dalle origini le fila di questo lavoro. Quindi io sono stato chiamato e nominato dal Norevo Battistoni a compiere questo ruolo in attesa delle elezioni del prossimo anno, in attesa di congressi che poi stabiliranno chi farà il coordinatore comunale qua a Pesaro. Io credo che la presenza di Forza Italia a livello nazionale o soprattutto anche qua a Pesaro rappresenti un puntasello fondamentale, cioè il centrodestra senza un partito moderato come Forza Italia in una zona anche storicamente rossa come questa farebbe fatica a proporre un'alternativa credibile. Quindi la presenza di Forza Italia è fondamentale e io lavorerò affinché a Pesaro ci sia questa presenza, sia credibile, sia importante e rappresentativa della cittadinanza. Proprio in questi giorni incassate di fatto il brutto colpo dell'uscita di Michele Redelli annunciata il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Pesaro. Questo è uno dei sintomi che comunque il partito vive dopo la scomparsa di Berlusconi? Sì, questo è un momento in cui magari qualche componente di Forza Italia ha subito una sensazione di confusione, insomma di mancanza di punti di riferimento. Capisco la scelta di Michele che è un amico, l'ho sentito in questi giorni e per Forza Italia certamente rappresenta un colpo duro perché non abbiamo la presenza più in consiglio comunale, però Michele mi ha assicurato che l'impegno che si è preso con gli elettori che l'hanno eletto nel 2019 lo porterà avanti fino all'ultimo giorno di legislatura. Forza Italia c'è a Pesaro lo stesso, adesso io sto creando una squadra molto forte che si farà sentire nell'ambito della politica pesarese.